Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Colpo di scena nel caso di Liliana Resinovic. Nuovi dettagli sconvolgenti emergono in una delle vicende più misteriose degli ultimi anni. L'ombra del sospetto si intensifica su Sebastiano Vicentina, marito della vittima, la cui posizione appare ogni giorno più ambigua e complessa. Gli indizi si accumulano, delineando scenari inquietanti che potrebbero rovesciare l'intera vicenda. L'ultima novità riguarda una misteriosa assenza di attività sul cellulare del marito nel giorno della scomparsa di Liliana, un intervallo di ben tre ore senza alcun segnale, tra le 9 e 12 e le 12 e 10 del 14 dicembre 2021, che solleva dubbi significativi sulla sua possibile responsabilità nella sparizione e nella morte della donna. Sebbene sia solo un'ipotesi, non confermata da riscontri certi, desta particolare attenzione il fatto che l'ultimo segnale del cellulare di Sebastiano sia stato registrato da una cella vicina all'ultima posizione conosciuta di Liliana. I legali del fratello della vittima sostengono che il telefono di Sebastiano sia stato spento, mentre lo stesso Sebastiano afferma che nel suo laboratorio, dove si trovava quel giorno, il cellulare spesso non prende e che tende comunque a spegnerlo durante il lavoro per evitare distrazioni. Intervenendo in trasmissione a storie italiane, il fratello di Liliana ha sottolineato che il racconto di Sebastiano non torna, dato il misterioso intervallo di tre ore senza segnali telefonici. Ha anche anticipato che le chiamate da Liliana verso Claudio avvenivano tramite un sistema VoIP, mentre quelle di Claudio verso di Lei no, insinuando che le comunicazioni della sorella potessero essere state monitorate. Inoltre, il 15 dicembre, entrambi i cellulari risultano aver ricevuto chiamate senza risposta, dettaglio che aggiunge ulteriore mistero alla vicenda.